Non è stata una giornata scelta a caso quella che la sezione di Vibo Valenza di Luigi ha voluto individuare per consegnare agli attestati di partecipazione a quante hanno frequentato il corso di lettura e scrittura Braille nuovi percorsi inclusivi. Infatti il 21 febbraio si celebra la giornata nazionale del Braille quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti in concomitanza con la giornata mondiale della difesa dell'identità linguistica promossa dall'UNESCO. È stato un corso molto positivo, io mi sono trovato delle corsiste che hanno davvero avuto voglia di apprendere non solo nelle mie 30 ore di lezione ma anche nelle altre 10 ore che sono state suddivise tra tiflo didattica, tiflo informatica, nozioni sulle varie normative che gli ha dato l'avvocato e anche qualche nozione data dall'oculista. Abbiamo poi voluto consegnare loro l'attestato in questa giornata particolare per noi dell'Unione Italiana Cechi in quanto è stata la giornata nazionale del Braille che è stata istituita nel 2007 con la legge 126 proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questo sistema di lettura e scrittura che ha aperto il mondo ai non vedenti, al mondo della lettura, della scrittura e insomma ha aperto davvero al mondo della cultura. Com'è stata questa esperienza? È stato... è difficile spiegarlo anche perché a parte la completezza del corso, perché non è stato solo un insegnamento del Braille, ma ci sono state delle lezioni di tifologia, abbiamo avuto lezioni, incontri con l'oculista, quindi è stato secondo me un corso completo di tutto. Però come diceva una mia collega, è stato un percorso bellissimo a livello umano, che ci ha legato e ci ha fatto entrare in un mondo a noi poco conosciuto e che ci ha affascinato, devo dire la verità. È stata un'esperienza intensa, intensa sotto tanti punti di vista, non solo per il gruppo classe che si è creato, perché bene o male poi siamo diventati una famiglia, ma anche e soprattutto per quello che Giuseppe, il presidente dell'associazione che è stato il nostro maestro, nella nostra guida ci ha trasmesso. Non solo le nozioni base su come leggere, su come scrivere, su come capire, ma proprio che ci ha trasmesso come entrare a fare parte di un mondo che era diverso dal nostro. Quindi siamo davvero entrati in una realtà diversa, ma che in realtà è la stessa nostra. Abbiamo capito come vivere con persone che sono fondamentalmente come noi. Ecco, quindi è stata davvero una bella esperienza. Perché avete fatto questo corso? Ok, se dovessi parlare a nome di tutte le mie colleghe posso dire che ognuna aveva una motivazione diversa. Molte di loro facevano in primis anche io per il nostro lavoro, perché siamo docenti e quindi è un modo anche per approcciarsi diversamente ai nostri alunni e crescere come docenti. Però lo facciamo e l'abbiamo fatto soprattutto perché crediamo che sia fondamentale includere tutti nel mondo. Quindi avere delle basi per poter includere tutti sia a livello scolastico che in generale nella vita. Avere un corso del genere poteva per noi essere significativo. Ripeto, Giuseppe ci ha aperto un mondo davvero. Quindi questo è stato il motivo principale. Volevamo entrare a far parte di questo mondo. ecco. 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 ecco.